Voi sapete che fin dall'inizio dell'attività del Governo per quanto riguarda il controllo della spesa pubblica abbiamo preferito scartare la via più semplice, quella dei tagli lineari e accingerci a quella un pochino più complessa ma strutturalmente più proficua di esaminare a fondo la natura, la struttura della spesa nelle sue diverse articolazioni della pubblica amministrazione.